partiti Sunrise Spirit lungo la corda si porta al comando davanti a Brigia Rabrab e Demeteor quindi Carmagnola, Oli Ballet, Allegro ed in coda Adams dopo i primi 300 metri di corsa è Sunrise Spirit a mantenersi in vantaggio alle sue spalle il compagno di colori Demeteor che precede Oli Ballet con vicino a Brigia Rabrab, ancora Allegro, Carmagnola e Adams gruppetto abbastanza riunito ora all'imbocco della curva sempre Sunrise Spirit a comandare le operazioni davanti a Demeteor che ora ha ai fianchi Allegro in quarta posizione all'interno Carmagnola con vicino Brigia Rabrab quindi Oli Ballet e Adams, Cavalli ora all'ingresso in retta d'arrivo con Demeteor che rompe gli induggi e passa deciso in vantaggio nei confronti di Oli Ballet che lo segue molto facile nelle mani del suo interpete all'esterno poi a centro pista Allegro più indietro gli altri capeggiati da Brigia Rabrab Demeteor all'osteccato e ora avvicinato da Oli Ballet che non muove ancora le mani sta passando Oli Ballet nei confronti di Demeteor quindi più a largo Allegro passa Oli Ballet nei confronti di Demeteor e Allegro nel tratto finale Oli Ballet ha preso il sopravvento e nel finale si impone bene nei confronti di Allegro e Demeteor andiamo a rivedere le immagini che ci propongono Oli Ballet numero 6 dello schieramento ancora Federico Bossa in sella a bersaglio in questa terza di Napoli molto agevolmente su Allegro e Demeteor quindi il probabile ed ufficioso arrivo della terza di Napoli vede al primo posto il sedio di Ballet al secondo il 2 di Allegro al terzo il 5 di Demeteor